Ciao a tutti, io sono Riccardo, ho 7 anni, sono un violinista e con questo video voglio invitarvi ad iscrivervi al mio canale YouTube per poter vedere e ascoltare tutte le mie cover del violino e farmi tutte le domande che volete. Questo è il mio violino e mi accompagno durante le mie giornate e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie per la visione!